Luca Vitali, responsabile del settore mini basket ABC, cosa ci racconti di questo inizio dell'annata? Come centri mini basket stiamo andando bene, come stanno con tre all'ABC siamo entrati anche con il basket di canema, i numeri sono buoni, i datori da tre anni, gli istruttori stanno lavorando bene, come mini basket ci conosciamo, ma finiamo un po' di un discorso bastito in tema, collaborazione nuova, già stanno, giusto, nuova, di più stanno, sì. Sì, era già una collaborazione che si faceva, però non era solo una cosa ufficiale, dove si sono entrati con l'altro, si sono andati come sorbiettici, sono istruttori, gli ha mandato i nostri ragazzi, loro mandano in luogo, c'è una cosa più ufficiale adesso, non più come non più, ma non più, facciamo un sistema ecologico. L'ultima domanda, in precedenza del torneo, come si serviranno tutti i centri di ABC? Esatto, la PC va a Stacchina, che è una cosa unica, si farà una grande festa il 2 gennaio, la Dogali, sarà tutto il pomeriggio, metà pomeriggio con i più piccoli e l'altra metà . Grazie a tutti.